a tutti benvenuti in questo nuovo video allora come potete vedere lo sfondo ho un pacchettino che mi è arrivato oggi della dolcissima gian gaia lei ha anche un canale youtube dove appunto scarta varie blind bag blind box eccetera eccetera vi lascio appunto sotto in descrizione il link del suo canale e abbiamo fatto uno scambio allora io già l'ho aperto perché per controllare diciamo che ci fosse tutto perché io delle poste come sapete non mi fido e appunto mi ha mandato una blind bag che io non sapevo fino adesso cos'era ciao grazie per questo scambio ti vuole tanto tanto bene anch'io tesoro e alla prossima un bacio gaia se ti vuole bene anch'io è troppo dolce questa ragazza poi mi ha mandato qui ci sono delle sue creazioni che non so quali sono perché è una sorpresa e poi mi ha mandato appunto queste cosine che gli ho chiesto io che sono appunto gli animaletti dei paciocchini che mi mancavano allora io direi appunto di aprire questo se voi volete andare a vedere cosa l'ho inviato io appunto passate dal suo canale che vi lascio come vi ho già detto in descrizione allora vediamo cosa c'è qui dentro presuppongo ci sia una principessa dei magichi esatto appunto eccola qua che carina che è e lei è feliciti stupenda stupenda io questa gaia già ce l'ho sinceramente però va bene la stessa che carina che è appunto non avevo neanche il libretto e lei è felicità appunto la principessa delle feste passione delle feste color preferito il fucsia amica del cuore è Ellie qui c'è la sua storia diciamo questa appunto è la sua amica e qui c'è tutta la checklist queste blind bag sono diciamo un po' vecchiotte ecco appunto qui c'è tutta la checklist queste due cambiano cioè scusatemi brillano al buio marissa e sibille qui c'è il braccialettino eccolo qua e qui c'è appunto il codice ma non so se vado ancora sinceramente ok poi direi di andare ad aprire questo appunto questo qua ci sono delle creazioni a vedere che le creazioni mi hanno dato oh che carine gli ho mandato due creazioni in resina allora questa qui che è una conchiglia stupenda è brevissima a fare le creazioni in resina bellissime bellissima scusate e questa zampina mamma che bella mamma mia che stupenda che è bellissima grazie Gaia stupende e poi appunto gli animaletti dei paciocchini che mi mancavano ok ecco qua adesso è il momento che troppo non mi sono presa la caclista perchè è venuta iniziata dunque appunto gli animaletti sono loro questo qui appunto io ho il suo diciamo bimbo il pappagallo poi questo qui il pappagallo giallo e poi il cavallino quindi io diciamo vi invito a a iscrivervi al suo canale per andare a vedere appunto quello che gli ho mandato io e a vedere tutti i suoi i suoi video perchè anche lei fa appunto apertura e blind e eccetera eccetera io ti ringrazio tantissimo Gaia davvero tanto per questo scambio spero che ci saranno altri scambi in futuro ma penso di sì che troppo dolce sei troppo dolce e niente io vi lascio appunto il suo link scusate il link del suo video gemello a questo o comunque del suo canale vi lascio anche il suo canale in descrizione per il mio invito a iscrivervi e io scusate se oggi sono un po' diciamo faccio fatica un po' a parlare ma sono stata un po' male diciamo e quindi ricominciare a fare dei video un po' così sai ricominciare a fare dei video quando magari ti fermi un attimo è un po' difficile comunque appunto vi dicevo vi lascio tutto in descrizione il suo canale vi invito per l'ennesima volta a iscrivervi e io niente vi lascio alla prossima mettete mi piace commentate e tutto quanto ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao